Ciao a tutti piccoli bambini e piccole ostettine oggi siamo qui per farvi vedere no per dirvi delle cose per farvi vedere un po' lì prima cosa dovete annunciare sul sito save your youtube perchè degli hacker vogliono chiudere youtube cioè si aprirà ancora però dobbiamo salvarlo youtube perchè youtube ormai è la nostra famiglia voi siete la mia famiglia come se vi scrivete se vi scrivete cliccate la campanella e commentate qua sotto avrete un cuoricino dalla sottoscritta infatti voi mi dico Rossi ma dove abbiamo avuto regali di natale? li ho avuti regali ora ne ho avuti solo due perchè noi sono due regali un regalo più bello che ho visto è stato qui si è affezionato e fermato Spyro e troppo bello mi è arrivato oggi vedete qua lo Spyro dai creatori di Spyro quindi per me è un ritorno al passaggio quindi faccio vedere poi faccio vedere poi i miei controlli sono venuti qua a casa mia e poi un attimo mi ha lasciato questo è un mini nasconde i soldi qui e si brava e si brava e si brava ora che io mi sto vedendo i video e fin vabbè ben tornato Niccolò ero giusto venuto a controllare la posta e quindi per dire che se io voglio youtube è facilissimo voi mettete non lo conosco bene il sito però anche io e poi vi dirò una cosa molto più bella se mi segui voglio salutare un bacione e se metti un commento e ti scrivi ti lascerò un po' di scena me e la scala anche tu stessa cosa di Gaia e scrivi un commento per sapere un po' di scena un bacione ancora Alessia non bagli è stata scena in un periodo difficile non è vero iscriviti soprattutto tu metti l'opzione tutto e commenta qua sotto che siamo ancora vicini e beh oggi volevo dirvi che allora Jack è diventato molto un po' di scena ho un anno già che c'è da dirlo però mi ha fatto degli orecchini fantastici che se andatevi a seguire su tiktok mi chiamo mi chiamo cavallari 29 0 29 0 290 e questo è il numero seguitemi anche su tiktok poi su instagram mi chiamo rossella 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 di rossella e questo è un che è un rossella rossella Usa una scatola del defilatore Però, perchè sono tante Per mia mamma e me sono tante perchè sono dieci Fake Lei è la fake di Fennig Ok io che ho visto è Big Saluta Ciao poi Poi c'è lei Poi c'è il brunch Poi c'è lei, un dancer E sì Fierce First I can't play Baby book E finish E vi mando un bacione Al prossimo video, ciao